Ti ha creato degli scompensi esistenziali? Cioè, sei stato problematico? Beh, il problema è di andare a dormire presto e di addormentarsi presto la sera, quello è il problema. Cambia il metabolismo completamente? Eh beh, bisogna, sì, cambiarsi. Però sai che c'è di bello? È che Roma alle 6 della mattina è una città bellissima, come non è più in nessun'altra ora del giorno. E comunque anche se arrivassi un po' addormentata, quando arrivi là trovi il giurato... E mi sveglia! Mi sveglia per forza, non se ne può fare a meno. Mi sveglia sempre lui. Allora, allora. Avremo per Politica in Famiglia Fausto Bertinotti, segretario di Rifondazione Comunista. A lui potremo chiedere che cosa sta per succedere nel palazzo. Poi il sindaco di Roma, Francesco Rutelli, al quale tutti i cittadini di Roma potranno fare delle domande. E poi personaggi dello spettacolo, Magalli, Cristian De Sica e poi Michele Santoro e Corrado Augas per l'informazione. Una magnifica settimana. Una magnifica settimana sul tappeto volante. Grazie, arrivederci, grazie ai nostri ospiti. E Rita Forte forse potrà accennare a tre note di chiusura del vostro programma. Brava.